Per me è una giornata importante in realtà non per il Movimento 5 Stelle ma per la libertà di espressione, per l'articolo 21 della Costituzione che protegge chiunque voglia dare un'espressione ma anche una critica politica ai politicanti di turno. È uscita la sentenza del Tronio di Pescara sulla citazione di Gianni Teodoro alla consigliera Sabatini, è stata citata per un risarcimento d'anni per lesione dell'immagine di ben 250 mila euro. Bene, questa sentenza ci ha dato completamente ragione e ha anche condannato Teodoro al risarcimento e al rimborso delle spese legali di questo grado. Quindi è una sentenza che ci dà ragione e dà ragione anche alla critica politica fatta sulla nomina dell'allora Assessore Veronica Teodoro, il quale poi ha lasciato spazio alla nomina del padre Assessore Gianni Teodoro. Cosa significa tutto questo? Significa che in realtà le persone, i cittadini, i giornalisti possono sentirsi tutelati dal sistema, tutelati da queste minacce di risarcimento portate avanti da grandi società ma anche da politici e se c'è un giudice terzo ed imparziale questo giudice davvero può tutelare la libertà di espressione. Quindi questo è un monito a chi cita sconsideratamente le persone civilmente per cifre mostre ma è anche un aiuto, un esempio per coloro che sono cittadini che non devono sentirsi minacciati. Sono estremamente felice perché dopo tre anni la sentenza ci dà ragione sia nel fatto che io avessi espresso un contenuto politico corretto e la forma con la quale io l'ho espresso. Quindi vince oggi la libertà di espressione, la forza e il coraggio di dire ad alta voce tante cose che magari qualcuno ha detto fuori microfono, la città raccontava fuori da queste mura e noi l'abbiamo detta con coraggio e determinazione e ne siamo orgogliosi e fieri nell'assiste civica che rappresenta l'intera città. Grazie. Grazie.